Musica E bella a tutti ragazzi qua è Bazooki Parla e oggi siamo su un progetto di Minecraft allora non è una farm esattamente è una scusate è una città sotterranea non sto scherzando nel senso questa qua è la home principale a destra si può cedere al niente a sinistra la zona farm che è riservata al personale poi andando dritti si può procedere a sinistra per il magazzino dove poi arrivano tutte le risorse questi sono i primi cibi da mangiare cioè il il pollo cotto e il melone mentre di qua c'è il pane le carote le patate e le barbabietole che sono ovviamente non ovviamente è la prima volta forse che sono distribuite tutte automatizzate nel senso la parte che mi piaceva di più farvi vedere è praticamente quella delle farm la prima farm sarebbe questa qua è una farm di polli 100% automatica con un clock per la lava e un clock per sparare le uova lo so che ci sarebbe anche la formula più compatta ma a me non funzionava forse perché nella 1.10 bisogna correggere qualche bug però comunque fatto sta che procedendo si si può vedere a destra la farm di meloni è fatta automatica al 100% però è un po' poco efficiente perché sono pochi i meloni di questa farm qua c'è tutto il servizio che li prende automaticamente poi invece qua c'è la quella che io chiamo super farm dei villager perché praticamente farmano all'infinito si farma tutto nel senso come mai sto villager non va a colare il resto quello non si saprà mai infatti hanno smesso di fare cibo comunque è 100% automatizzata con dei carrelli da miniera con opera che raccolgono tutto ma la parte più diciamo clu della cosa è questa lunghissima e ripeto lunghissima serie di opere con un sistema di smistamento e di autocottura delle patate è vero non sto scherzando c'è l'autocottura delle patate qua qua arrivano solo le patate qua arrivano solo le patate qua invece passano tutti gli altri oggetti come pane eccetera questo avviene grazie a una ad alcune celle di smistamento o una sola cella di smistamento che non sto qui a farvi vedere perché ci ho messo un delirio a farla è tutta questa dove qua scende per poi ovviamente portare da un lato questi qua gli oggetti normali e qua le patate che sono considerate oggetti speciali poiché nutrono un sacco due qua c'è quello che è il vero e proprio immagazzinamento nel senso questo è tutto il sistema di carrelli che portano alle cesta le cose esatte e come avete visto prima le cesta sono già suddivise in modo che in una cesta non può finire un materiale sbagliato ovviamente queste farm sono 100% automatiche ma hanno comunque bisogno di lasciare il computer acceso questo era ovvio e comunque di cura perché le penne da qua soprattutto questa parte qua del magazzino è quella che bisogna averne più cura nel senso se non si raccolgono adesso qua non sono morti ultimamente tanti polli se non si raccolgono le penne le piume dei polli praticamente vi si accumuleranno qua e andranno a riempire tutti i vagoni in modo che non farevi più niente a me è successo e vi avviso solo perché quella è una cosa abbastanza importante a cui bisogna prestare cura poi oltre a questo c'è anche il meccanismo di salita e discesa rapida però in teoria sopra qui non dovrebbe esserci mai il problema cioè non bisognerebbe mai venire in teoria per salire bisogna cliccare questo bottone ci si mette qua e automaticamente ci trasporterà questo è un mondo dove io uso comunque per fare i meccanismi di redstone quindi se vedete cose strane è abbastanza normale l'ingresso è praticamente un ingresso segreto nel senso una persona arriva qua dice ah che bel tappeto e che bella lanterna non può sapere che andando su questo tappetino venendo uno in fuori contando 1 2 3 4 5 6 7 8 no 10 scusate 11 12 13 a 13 blocchi se lui clicca il bottone e si mette immediatamente qua verrà ritrasportato giù la salita ovviamente è tramite scala per non occupare troppo spazio potevo fare un ascensore ma occupava comunque troppo spazio la discesa rapida è tramite slime di cui mi sono accorto un bug cioè vedrete lo schermo tremare non sono io e non è un non è un effetto in post produzione trema proprio questa qua è un po' la sala principale poi procedendo avanti si può incontrare una specie di laboratorio della strega con il libro dell'incantagione un sacco di librerie un tavolino abbastanza bello un calderone e un alamico poi procedendo ancora più avanti qua si troverà la stanza praticamente quella del personale dove si potrà comunicare con tutte le persone all'interno questo che è un piccolo orto nel caso la farma abbia dei gravi problemi e invece queste stanze sono ancora da realizzare scrivetemi nei commenti se cosa potrei aggiungere in questa città sotterranea che manca ci vediamo alla prossima e ciao questa è la mia pagina di fine video se vuoi vedere il video precedente clicca qua se vuoi vedere la playlist di questa serie clicca qua se invece ti vuoi iscrivere clicca sulla mia faccia se invece sei su smartphone vai nei link in descrizione o chiudi il video vai sulla mia pagina e clicca sul bottone iscriviti se vuoi seguirmi ci sono anche tutti i link dei miei social network sempre in descrizione ci vediamo al prossimo video e mi raccomando mettete mi piace